Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 2 km di coda per un veicolo in fiamme adesso estinto al km 271 e 300 in galleria tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano, sesto fiorentino. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monterigioni e Badesse in entrambe le direzioni. Sulla strada di grande comunicazione FIPILI, incidente in uscita Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!